Parliamo di Canon EOS 6D, un dinosauro se ci pensate, un corpo macchina abbastanza vecchio, corpo macchina reflex quindi non è una moderna mirrorless ancora, lo specchio, un corpo a mio parere molto bello con un grip fantastico che riempie bene la mano. Oggi però non parliamo tanto del corpo macchina quanto piuttosto andiamo a vedere come impostarla per andare a tirar fuori il meglio da questa fotocamera. Questo è un video che faccio in seguito a una richiesta di un utente di cui non faccio il nome, tu sai di chi parlo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi parliamo di Canon EOS 6D, quindi una fotocamera vecchia, una fotocamera però che può riservare delle sorprese in quanto è una fotocamera full frame con un sensore secondo me di tutto rispetto, una fotocamera che vi dico come vi ho già detto in tanti video, l'ho già recensita, quindi è una fotocamera che io uso sia per diletto sia per lavoro, quindi è una fotocamera che ha molto da dire anche in ambito professionale, non è necessario avere la R3 per lavorare in ambito professionale come fotografo, non è necessario avere la Sony Alpha 7S III, non è necessario avere la XT2, non è necessario avere i modelli super top progrediti, è sufficiente una fotocamera come questa per tirare fuori ottimi risultati, basta saperla usare e per l'appunto nel corso di questo video vi farò vedere come la imposto io, la uso da tanti anni, quindi credo che impostazioni migliori di quelle che vi faccio vedere oggi non esistano per questa fotocamera, ovviamente quello che vi dico è applicabile in ampia parte anche a 6D Mark II. Prima di cominciare vi ricordo che potete sostenere questo canale in maniera rapida, facile e gratuita semplicemente cliccando il bottone iscriviti qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete i prossimi aggiornamenti in cui vi ringrazierò per esservi iscritti, non vorrete mancare proprio quel momento, vero? Molto bene, ma eccoci qui all'interno del menu della fotocamera. Noi andiamo ad accenderla e partiamo dalle prime cose. La prima cosa che dobbiamo andare a impostare correttamente è la qualità dell'immagine. Ora, se noi andiamo su Image Quality, come potete vedere abbiamo una serie di opzioni. Normalmente io tengo impostato RAW perché voglio catturare l'immagine alla massima qualità e nessun JPEG. Le alternative sono che io potrei catturare RAW più JPEG, quindi vedete che qui ho la mia conferma. In questo caso ho la mia versione in alta qualità che devo poi sviluppare a computer e una versione rapida già pronta che posso condividere subito tramite il wifi interno della fotocamera. Posso mandarla su un cellulare, quindi postarla sui social media o mandarla direttamente al cliente. Normalmente non lo faccio, preferisco di gran lunga lavorarmela a casa e condividerla successivamente. Un'altra cosa che facciamo, andiamo a togliere il BIP. Questo è il BIP che scatta nel momento in cui andiamo a mettere a fuoco. Sentite? Normalmente io lo tolgo perché non mi serve e potenzialmente distrae i soggetti, quindi normalmente vado a toglierlo. Release Shutter Without Card. Questo è una protezione. Nel momento in cui non c'è la memory card inserita, se io vado a premere c'è un blocco per cui la fotocamera non scatta senza la memory card inserita. Questa è una sicurezza per noi, perché se ci siamo dimenticati di inserire la memory card così ce ne accorgiamo subito. Image Review 2 secondi. Questo è il tempo che l'immagine rimane sullo schermo dopo che abbiamo scattato, quindi ci dà la possibilità di vedere subito l'immagine che abbiamo scattato. Normalmente lo tengo acceso perché può servire. Passando al secondo menu. Correzione dell'aberrazione. Queste cose io di solito le tengo disabilitate perché sono cose che voglio andare a gestire in post-produzione. Quindi non le faccio in camera ma le vado a fare dopo in post-produzione con Lightroom su computer. External Speedlight Control. Questa è una cosa che serve nel momento in cui andiamo ad attaccare uno speedlight. Flash firing attivo. Sono tutte impostazioni che andiamo a vedere nel momento in cui utilizziamo un flash. Non sono proprio impostazioni della camera. Sono più impostazioni che entrano in gioco quando ci attacchiamo a un dispositivo illuminante. Mirror Lockup Off. Questa è una funzione che serve a bloccare lo specchio. Sono tutte cose specifiche che non andiamo a vedere in questa sede. Ora, compensazione dell'esposizione. Questa è una cosa interessante perché se noi apriamo questo menu e andiamo a utilizzare la rotella che sta qui sopra vedete che possiamo andare a dargli una forbice. Questo è il bracketing. Nel momento in cui noi andiamo a dirgli ok vedete che rimane impostato in questo modo se noi adesso andiamo a scattare quello che succede è che la fotocamera realizza tre scatti uno con l'esposizione che gli abbiamo dato uno sovraesposto e uno sottoesposto. Questa è la modalità che si utilizza per fare fotografie HDR quindi quando io faccio foto di interni, foto di paesaggio o qualsiasi altra cosa che richieda l'HDR questo è il menu su cui andare per impostare il nostro bracketing che può essere a 1, a 2 o a 3 stop e in questo modo andiamo a catturare tre foto diverse che ci permettono di portare a casa una gamma dinamica un pochettino più espansa rispetto a quella nativa del sensore. Speed settings. Qui come potete vedere questi sono gli ISO attuali a cui è impostata la fotocamera. Qui abbiamo uno speed range nel senso che la fotocamera va da 100 a 25600 è il suo range nativo lo lasciamo così Auto ISO range è il range in cui la camera si muove nel momento in cui la impostiamo in automatico quindi io qui gli ho messo il full range anche qui perché il 25000 è un'espansione quindi l'ho lasciata con il 6400 nativo Minimum shutter speed anche qui sono tutte impostazioni che servono per le modalità automatiche io non le uso, spero neanche voi l'ottimizzatore della luce anche questo serve per delle modalità automatiche io questo non lo uso mai quindi lo tengo sempre spento White balance qui io l'ho impostato su automatico nel momento in cui abbiamo una scena ovviamente è meglio se lo impostiamo e anzi vi dico di più è meglio se andiamo su K e quindi andiamo su K e con la rotella qui sopra decidiamo la nostra temperatura colore è molto meglio fare così abbiamo una temperatura colore più precisa Custom white balance serve se vogliamo utilizzare una foto che abbiamo già fatto per impostare il balance quindi se io clicco vedete che mi fa scegliere una foto e in base a queste foto che io ho già fatto posso dirgli che una di queste due è giusta e quindi di tenere il bilanciamento del bianco che c'era in questa foto una cosa che adesso non facciamo ovviamente perché è meglio gestirsela col K per quanto mi riguarda Color space questo serve prevalentemente se scattiamo in JPEG quindi è meglio impostare Adobe RGB perché sRGB è un profilo colore più piccolo quindi nel caso scattiate in JPEG mettete questa impostazione che poi è meglio vi aiuta a gestire meglio le vostre immagini e potete sempre convertire in sRGB mentre non è possibile fare il contrario andiamo avanti Picture style anche questo serve prevalentemente se scattate in JPEG perché poi tutte queste cose se scattate in RAW le andate a vedere a computer una volta che avete scaricato il materiale Noise reduction io tutte queste cose le tengo off perché queste sono tutte cose che un pochino vanno a influire sull'immagine e in particolare questa io posso metterla on però questa impostazione mi raddoppia il tempo che la camera ha bisogno per catturare un'immagine perché se la camera ci mette facciamo finta 10 secondi a fare l'esposizione avrà bisogno di altri 10 secondi per rimuovere il rumore Riduzione del rumore ad alti ISO questa è un'opzione che potrei valutare per il video per la fotografia no perché preferisco farlo a mano anche questo ricordiamoci che ogni volta che abbiamo qualcosa di automatizzato poi non possiamo tornare indietro quindi sono processi che io personalmente preferisco gestire a mano a computer Highlight Tone Priority assolutamente off questo io non lo uso mai perché comunque preferisco avere un sensore pulito Esposizione Multipla questo è carino perché questo ci permette di andare a realizzare un'esposizione multipla quindi sommare due scatti quindi noi possiamo fare uno scatto e poi realizzare un secondo scatto e andare ad avere la somma direttamente in camera è una cosa carina anche se anche qui io preferisco farlo a computer perché ho più flessibilità Live View Shooting Enable quindi nel momento in cui io vado ad attivare il Live View viene attivato correttamente Eif Method FlexiZone quindi è un metodo di messa a fuoco un po' obsoleto però comunque funziona Grid Display qui noi possiamo andare a inserire delle griglie quindi possiamo mettere la griglia completa oppure semplicemente la griglia regola dei terzi 3x3 oppure una 6x4 sapete cosa vi dico? io adesso vado a impostare la 3x3 più il diagramma perché sono curioso Rescio qui abbiamo il classico tre mezzi il classico formato fotografico 35mm possiamo impostare anche 4x3, 16x9 o il formato quadrato io ve lo sconsiglio e sapete perché? ve lo sconsiglio perché nel momento in cui noi la lasciamo su tre mezzi stiamo usando l'intero sensore se usiamo 4x3 stiamo rinunciando a parte delle immagini se usiamo 16x9 stiamo rinunciando a parte delle immagini se usiamo quadrato di nuovo stiamo rinunciando a parte delle immagini fondamentalmente stiamo tagliando quello che c'è sui bordi e stiamo tenendo solo la porzione centrale ma è meglio farlo in post produzione simulazione dell'esposizione io lo lascio attivo c'è un bottoncino sul davanti che se premuto ci va a mostrare la simulazione dell'esposizione e in questo modo possiamo vederla anche a monitor durante il live view live view silent shoot mode 1 queste sono tutte cose che servono per quando siamo in live view quindi a scattare in maniera silenziosa qui abbiamo i menu di servizio quindi abbiamo proteggi immagini se vogliamo proteggere un'immagine non correre il rischio di buttarla abbiamo ruota immagine se l'abbiamo fatta in verticale ma la camera non ha capito e ce l'ha memorizzata orizzontale possiamo cancellare immagini possiamo metterle in ordine per la stampa possiamo addirittura processare dei file raw ma tutto questo io vi sconsiglio caldamente di farlo abbiamo anche un resize abbiamo un rating abbiamo lo slideshow abbiamo il jump di 10 step e possiamo decidere che il jump diventi di 100 oppure di 1 quindi quando scrolliamo tra le immagini con questa rotella possiamo decidere quanti step fargli fare highlight alert io vi dirò che questo adesso lo attivo questo qui serve a farmi vedere sull'immagine mi fa vedere un lampeggiante dove ci sono delle perdite di dettaglio quindi questo può essere utile e i f point display pure questo lo attivo questo mi fa vedere sull'anteprima dove era il punto di messa a fuoco che era in funzione durante quello scatto playback grid off durante il playback non voglio vedere la griglia display dell'istogramma brightness o rgb o lo lascio su brightness perché è più preciso l'istogramma sulla luminanza piuttosto che sulla colorimetria tutte le altre opzioni sono un po' particolari quindi direi che non le useremo tanto spesso e non ve le faccio neanche vedere qui abbiamo delle opzioni per quanto riguarda lo stoccaggio delle immagini quindi abbiamo select folder numero dei file auto rotate su computer e formattazione della memory card questo è importante perché quando vogliamo formattare la memory card dobbiamo andare qui quindi la memory card verrà formattata per questa fotocamera cosa che è meglio fare quando mettiamo dentro una nuova memory card tutti i file presenti saranno cancellati ovviamente quindi da tenere bene a mente auto power off un minuto quindi la camera va in stand by dopo un minuto di inutilizzo la luminosità del display io la lascio sempre a metà però se siamo in un contesto molto luminoso forse la dobbiamo alzare qui abbiamo la data e la lingua queste sono cose che sono un po' sottovalutate ma sono molto importanti avere la data corretta è molto importante perché se stiamo scattando con due corpi macchine e abbiamo impostato correttamente data e ora i file saranno sincronizzati per tempo se viceversa non lo facciamo saranno tutti in disordine il nostro shooting sarà da rimettere in ordine linguaggio io tengo inglese perché così quando non mi ricordo qualcosa devo andare a vedere un tutorial su internet o trovare un bottone sui manuali si trovano più facilmente in inglese così sono avvantaggiato GPS qui abbiamo le impostazioni di GPS io le tengo disattivate perché consumano batteria però se siete in giro e volete che rimanga traccia di dove eravate a scattare una determinata cosa attivate il GPS e nei metadati della vostra foto rimane immagazzinato dove vi trovavate al momento dello scatto video system ora qui indovinate come mai è impostato su PAL perché non ho mai usato questa fotocamera per fare video adesso imposto subito NTSC quindi la differenza è che il sistema PAL è quello europeo e quindi avremo i 25 frame al secondo che è quello dei nostri televisori è un sistema che a me non piace particolarmente preferisco i frame al secondo del cinema o dei sistemi americani che sono quelli dei social che usiamo tutti i giorni quindi preferisco il sistema NTSC non ce n'è uno giusto o uno sbagliato è solo una questione di preferenza feature guide io la tolgo questa è una guida simpatica che ogni volta che aprite un menu vi dice che cosa fanno le varie cose io ovviamente l'ho disattivata wifi io lo tengo disattivato perché appunto consuma energia se lo attiviamo possiamo andare a trasmettere le immagini che abbiamo scattato direttamente a un dispositivo che può riceverle sensor cleaning questa è una cosa importante perché noi possiamo andare a pulire automaticamente il sensore possiamo dirgli di fare una pulizia in questo momento oppure possiamo dirgli di pulirlo manualmente questa è l'opzione che utilizziamo quando vogliamo aprire la fotocamera e andare a intervenire direttamente sul sensore fatelo solo se siete sicuri di quello che state facendo per non rischiare di compromettere la funzionalità del vostro sensore informazioni sulla batteria qui abbiamo una batteria al 95% shutter counter vuol dire che ha fatto due scatti con questa batteria con questa ricarica di batteria qui ci dice il nome della batteria e dove è posizionata insomma tutta una serie di informazioni che potrebbero anche interessarci qui abbiamo la versione del firmware copyright information ora questo è importante perché nel momento in cui noi andiamo a inserire i nostri dati questi rimarranno memorizzati nei metadati della foto è una garanzia in più per noi avere i nostri metadati nella foto perché vuol dire che chiunque la prenda non potrà dire non sapevo di chi era perché ci sono i nostri dati il nostro nome dentro nei metadati siamo quasi arrivati alla fine questo è molto importante qui abbiamo la possibilità di decidere gli incrementi della nostra esposizione e possiamo andare per un terzo di stop o per metà stop questo è importante perché possiamo decidere di avere più versatilità oppure di avere una fotocamera con delle caratteristiche che la rendono magari un pochino più vecchia quindi un mezzo stop però per molti versi è meglio utilizzare il mezzo stop perché per esempio per la sensibilità ISO ci mette al riparo dal rischio di introdurre maggiore rumore non utilizzando la sensibilità ISO nativa io preferisco tenerlo così essendo perfettamente consapevole di cosa questo comporti autofocus qui come potete vedere abbiamo una media tra bloccato e responsive ovviamente se lo vogliamo più responsive andiamo a destra se lo vogliamo bloccato sul soggetto andiamo a sinistra è una messa a fuoco non particolarmente prestante quindi fossi in voi non la toccherei proprio ora per ruotare le ghiere durante le varie operazioni in priorità noi possiamo decidere di invertire il senso delle nostre ghiere quindi questa è una cosa che io non toccherei però vi segnalo che c'è e qui alla fine abbiamo cancella tutte le funzioni avanzate quindi tutto quello che abbiamo fatto qui può essere sovrascritto semplicemente cancellandolo da qui abbiamo poi il menu stellina my menu settings questo è un menu che serve quando noi vogliamo salvarci delle voci di menu qui dentro in maniera tale da non doverle andare a recuperare dentro tutte queste tentine ma abbiamo qui una serie di cose che ci interessano che usiamo più spesso è una cosa che io faccio più per il video che per la foto ora dimenticate tutto quello che vi ho detto perché andiamo ad aprire il menu video come sapete su molte fotocamere EOS il sistema operativo foto e video è separato e questa non fa eccezione quindi nel momento in cui andiamo ad aprire i nostri menu in modalità video vedete che alcune cose sono diverse qui per esempio abbiamo di nuovo i metodi di autofocus stavolta valgono per il live view ma valgono in particolare per il video e qui abbiamo un'opzione in più che prima non c'era abbiamo la possibilità di impostare full HD 24 frame al secondo o live questa è l'impostazione migliore di questa fotocamera perché l'IPB è un formato compresso quindi ci darebbe un campionamento di immagine lievisamente inferiore meno fotogrammi con cui lavorare abbiamo la possibilità di girare a 60 frame al secondo però siamo in 1280 non più in 1920 quindi questa è l'opzione migliore di qualità massima che possiamo utilizzare esiste anche 30 frame al secondo che ci sono più frame ancora ed è un formato molto americano io non lo userei fossi in voi io userei il 24 a meno che non ci sia un motivo specifico per usare un altro formato sound recording auto non va bene noi vogliamo mettere manuale perché così possiamo andare a gestire vedete che adesso qui si sente la mia voce che non sta venendo registrata ma c'è già una segnalazione del fatto che c'è un audio ambientale vedete che se faccio così clippa e quindi vado ad abbassarlo un pochino finché non clippa più e così sono pronto ad andare ovviamente questo lavoro lo devo fare tutte le volte perché la mia sorgente audio può essere diversa attenuatore di vento io ve lo sconsiglio dovete avere un gatto morto o comunque usare un microfono esterno quindi questo non lo usiamo proprio è inutile time code lasciate tutto così video snapshot possiamo attivarlo e abbiamo sostanzialmente uno snapshot quando cominciamo a fare un video quindi è una cosa anche questa che vi sconsiglio può essere carina ma non è una cosa molto professionale io non la userei proprio estraiamo il frame dopo se proprio ci serve qui abbiamo tutte le opzioni che abbiamo già visto non ci sono grossi cambiamenti da segnalare ovviamente se andiamo ad agire su NTSC e lo mettiamo PAL torniamo qui sul menu video e vedete che qui invece dei 30 frame al secondo abbiamo i 25 adesso e qui invece dei 60 frame al secondo abbiamo i 50 quindi personalmente preferisco il sistema NTSC mi dà più flessibilità mi dà più frame al secondo quindi a prescindere lo considero migliore anche qui come già detto abbiamo il my menu settings e qui possiamo metterci delle impostazioni per il video che usiamo di frequente quindi possiamo metterci per esempio le impostazioni pallo NTSC e possiamo metterci le impostazioni audio per passare tra auto e manuale giusto per farvi un esempio quindi ce le abbiamo tutte qui non dobbiamo più andarle a prendere in tutte quelle tendine ma abbiamo tutto quello che ci serve qui queste più o meno sono le impostazioni che vi serviranno per operare correttamente con questa fotocamera bene amici come avete potuto vedere si tratta di una fotocamera a me piace tantissimo come potete vedere qui è equipaggiata con il 16-35mm f4 che rimane a oggi la mia lente preferita in assoluto questa è la macchina che io porto con me in viaggio se devo fare quando sono andato a Parigi per esempio ho portato questa quando sono andato a Firenze ho portato questa vero è che oggi forse anzi probabilmente mi porterei Canon EOS R con il 14-35mm perché insomma camera più progredita il sensore più bello la lente mi dà più margine quindi probabilmente mi porterei quella con un po' di rammarico perché quest'ottica è più bella del 14-35mm è più bella il 14-35mm mi dà quel pelo di angolo di campo in più che mi fa comodo e il sensore della EOS R è migliore di questo quindi comunque ho più soddisfazione su quell'ambito la cosa che mi sarebbe piaciuta di più in assoluto sarebbe stata poter mettere il 14-35mm su Canon EOS 6D ma non si può fare perché sono due cose incompatibili ovviamente lascio spazio a questo punto a voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa fotocamera io credo che sia una fotocamera estremamente attuale perché si trova ancora a dei prezzi ridicoli veramente ridicoli cioè ve la portate a casa per un prezzo che è inferiore a quello di uno smartphone quindi una camera come questa fa delle belle cose comunque per cui fatemelo sapere nei commenti è stata una camera anche abbastanza bistrattata quando è uscita perché insomma non era Canon EOS 5D e quindi è stata un po' maltrattata ma secondo me è un'ottima fotocamera fatemi sapere nei commenti se l'avete mai provata se la utilizzate se vi piace se vi fa schifo fatemi sapere tutto quanto e non dimenticate di iscrivervi al canale il bottone è qui sotto attivate anche la campanella ma che ve lo dico a fare mettete anche un like grazie a tutti